A capo. Tanto. Tanto. Muore ai fame? No, ho 100 pezzi. No, che cosa? No. Di riprendere? No. Se vuole unirsi a noi non ci stiamo. Dici cosa ti faresti fare da quello di Dolce Gabbana. Amici. Amici. Dove lavoro a mia fama? Di fronte c'è Dolce Gabbana con un bar e c'è un figo che... Che niente. Eh no. Che niente, io da quello lì neanche mi farei toccare. Gratta al naso così. Ma lui non se lo gratta come me così. Ma come se lo gratta? Non se lo gratta. Non sono neanche io. Non se lo gratta così. No. Con un sprezzo, amici. Un sprezzo della gente. E poi ti guarda un po' come me. No, non ti guarda. Lui non ti guarda mai. Noi non ti guarda mai. Perché io mi ne scopo. Come pantaloni lilla. E non ho i tacchi. Il more si fa obbiliare. Ecco io da uno. Noi lecchiamo Pantegano. Io a uno così. Mi voglio solo, cioè ambisco solo a pulirgli il bagno. A fargli la pulita in casa. A farmi frustare ma no. Il more invece li leccherebbe. Io leccherei Pantegano. Niente, amici. Amici. Io propongo un minuto di silenzio per la capra morta sotto la panca. Sotto la panca? La capra morta. La capra crepa. Eccolo. E per questo. Frrrrbeee.